Battito alternato gambe. Distesi al suolo, gambe e spalle leggermente sollevate, in modo da mantenere l'addome in tensione costante durante l'intero esercizio. Batti dal basso verso l'alto i piedi in maniera alternata. Mantieni le gambe leggermente flesse, per mantenere il maggior carico di lavoro possibile sull'addome, e non sui quadricipiti. Grazie.